Come sindacato siamo attivamente impegnati anche nella medicina di genere perché riteniamo che un approccio personalizzato alla medicina e quindi alle cure, alle diagnosi ma anche alla prevenzione sia assolutamente da attuare. Questo consente alle persone di sentirsi effettivamente curate e consente in generale a nostro avviso anche al sistema sanitario nazionale di poter essere senz'altro più efficiente e più efficace e quindi comunque di diventare veramente un servizio universale così come previsto dalla nostra Costituzione.